Per gli abitanti della pianura padana si pronunciano tempi molto magri dal punto di vista della tutela ambientale perché ieri con il proprio decreto governativo il Consiglio dei Ministri ha deliberato di andare a sanare alcuni contenziosi in essere con la Unione Europea anche per sbloccare l'erogazione dei famosi quote del PNRR e in pianura padana si parla di attuare i provvedimenti per cui si erano resti bloccati per quanto riguarda i livelli delle emissioni inquinanti, particelle PM10, PM2,5 e ossidi d'azoto ne vedremo di belle perché si rischia di bloccare l'area più produttiva del paese ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi ma dopo che vi siete registrati, che avete messo il mio piace e soprattutto condiviso il contenuto con i vostri amici, a tra poco dopo la sigla Cari amici di Vivitalia TV bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elina. Per gli abitanti della pianura padana, ma non solamente gli abitanti ma anche per chi lavora nella pianura padana, quindi chi si sposta continuamente e periodicamente nelle aree più produttive del paese, si preannunciano tempi magri perché in un consiglio di ministri fatto ieri il governo ha deciso di mettere una parola fine a tutti quei procedimenti di contenzioso aperti con l'Unione Europea in fatto di superamento dei limiti delle sostanze inquinanti presenti nell'aria. È noto che la pianura padana è un catino circoncluso da catene montuose, le Alpi a nord, gli Apennini a sud e dove, soprattutto d'inverno, è molto difficile il ricambio dell'aria e così facendo si accumulano all'interno di questa area che abbraccia cinque regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia, una concentrazione di agenti inquinanti che superano spesso e volentieri per più periodi, per più giorni all'anno, talvolta anche continuativamente per mesi, i limiti ammessi dall'Unione Europea per quanto riguarda le PM10, le PM2,5 e gli ossidi di azoto. E questo aveva causato ai danni dell'Italia una serie di aperture per procedure di infrazione. Ora, per cercare di mettere un po' un freno a tutti questi contenziosi che sono aperti con l'Unione Europea, il governo Meloni ha deciso di aderire e di attivare una serie di operazioni volte a cercare di ridurre il livello degli inquinanti in atmosfera. Un'operazione che è tutt'altro che facile perché, così come si è tentato di fare da parte di tantissime amministrazioni locali, provinciali, comunali, quant'altro, di limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, ha dato un esito estremamente contenuto. E anche l'idea che si preannuncia adesso di elettrificare quanto più possibile la mobilità darà un incentivo, un contributo estremamente limitato rispetto alla portata del problema. Perché il grosso delle emissioni, inutile nascondersolo, deriva dall'attività industriale e soprattutto dall'attività di riscaldamento. Perché proprio in inverno, quando fa freddo e in pianura padana e nelle località alpine e appenniniche, vuol dire tenere accesi i riscaldamenti almeno per 6, 7 o addirittura 8 mesi all'anno, la concentrazione di sostanze inquinanti aumenta e non poco. Il problema appunto è questo, che per rientrare all'interno dei limiti concessi dall'Unione Europea vorrebbe dire, così come ha detto anche il governatore della Lombardia, Tiglio Fontana, in una serie di incontri che lui stesso ha avuto a Bruxelles per cercare di mitigare questa situazione che è congenita anche alle condizioni orografiche del territorio, ma però ritornando a casa con il classico pugno di mosca, anzi il pugno di cavallette si avrebbe da dire, visto che è la moda che impera a Bruxelles. Il problema è che entro il 2030 si dovrebbe fermare o ridurre il 55% dell'attività in essere, ovvero sia ridurre del 75% la circolazione dei veicoli pesanti e leggeri e ridurre del 60% anche l'attività di allevamento e delle aziende manifatturiere, oltre naturalmente ridurre grandemente l'utilizzo del riscaldamento, sia che esso vada a pompa di calore, sia che esso vada a gas metano, proprio perché il forte uso di riscaldamento è uno dei elementi principali che ammorba la qualità dell'aria della pianura padana. Sarà un'operazione praticamente impossibile, ma soprattutto sarà un'operazione che porterà a un detrimento del livello economico di quello che è il triangolo produttivo del paese e soprattutto il motore dell'economia nazionale, un contesto per cui il governo Meloni dovrà valutare effettivamente se questa sia negli interessi nazionali del paese a attuare una siffatta riduzione per poter rientrare all'interno dei limiti fissati nell'Unione Europea. Limiti che si dicono che siano eccessivamente restrittivi, anche perché in certi casi non è ancora dimostrato efficacemente qual è che sia l'impatto delle particelle ultrafini, le PM2,5, dove sono il nuovo limite di azione da parte dell'Unione Europea. Ma il problema fondamentalmente è che in certi casi un po' di inquinamento, un po' di morti correlati all'attività manifatturiera dell'uomo è necessario accettarla, fa parte del gioco e non bisogna stracciarsi le vesti per andare a tendere sempre verso più quel limite zero dove gli legislatori europei stanno cercando di portare il continente. Emissioni zero dal punto di vista di climatiranti, emissioni zero per quanto riguarda la mobilità, emissioni zero per quanto riguarda la manifattura e le attività umane e quant'altro. Però il problema è rendersi conto del fatto che a furia di andare verso lo zero ci porterà anche la società europea, ma soprattutto in questo caso quella italiana, anch'essa verso lo zero. E con un paese che invecchia sempre più, che ha bisogno sempre più di ricchezza per poter mantenere i servizi pubblici, per poter assicurare l'assistenza agli anziani, le cure mediche e soprattutto anche i servizi pubblici per quanto riguarda la sanità, la scuola, la manutenzione delle strade e quant'altro, e del territorio, visto anche quello che è successo recentemente nel corso dell'alluvione in Romagna, è evidente che servono soldi. Questi soldi non si possono prendere a debito, che per quello italiano è già di per sé mostruoso, oltre 2.800 miliardi, e bisogna produrre reddito per poterlo alimentare. E per produrre reddito al giorno bisogna lavorare e anche emettere un certo quantitativo di inquinamento. È inutile nasconderlo sotto il tavolo. Però bisogna cercare di sfruttare al massimo quelle che sono le sinergie, di fare al massimo l'economia di scala e soprattutto evitare gli sprechi, dove l'Italia purtroppo è tristemente famosa. A iniziare dalla gestione dei rifiuti, che al nord è ancora piuttosto efficiente, mentre in altre parti del paese si continua a buttare il rifiuto, che potrebbe essere tranquillamente riciclato e riutilizzato, in discariche, o peggio, trasportarlo spesso a migliaia di chilometri di distanza per farlo incinerire e termomodalizzare da parte di altri paesi, i quali vengono pagati per il servizio e soprattutto si riscaldano, producono l'energia, producono materie prime a costo zero perché viene pagata da chi produce i rifiuti. È un sistema francamente cervellotico che dovrebbe essere quanto prima cambiato e ovviamente che non si cambia dalla mattina alla sera, ma bisogna cominciare a porre le basi per questa forma di cambiamento e soprattutto cercare di ridurre quanto più possibile, senza strozzare l'economia, le emissioni inquinanti, anche perché ne va un po' della qualità della vita di tutti i quanti. Cari amici vicino e lontani, in questa puntata lo schiacciassassi termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace, di iscrivervi al nostro canale e soprattutto di condividere con i vostri amici. Intanto, da parte di Stefano Elena, un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!